Adesso, cosa abbiamo qua? Tutti i rossi di armi No, aspetta, voglio dire Ci sono anche Topi, ragni, luce E questo è un ragno con la ragnatela Un ragno, vediamo bene Sì, un bel ragno gelante con la ragnatela Una luce delle streghe Vediamo come si accende Facciamo vedere ai bambini come si accende Questa accende qua Vediamo una lanterna Ti ricordi che l'anno scorso Tu sei andato in giro vestito da scheletro Con questa lanterna Ti ricordi? Sì, allora, lui ci vestiamo da scheletro Poi vediamo le altre decorazioni I topini delle streghe E poi dietro cosa c'è? Fammi vedere bene dietro cosa c'è Dietro qua, dietro qui Un ragno Due ragni fosforescenti Questa l'abbiamo già visto Una grandissima ragnatela E poi le zucche E dietro queste zucche cosa mettiamo? Sì, i dolcetti Sì, i dolcetti Bravissimo Bene, adesso Ivan Vieni qui Dobbiamo decidere dove posizionarle nella casa No, allora, questo dove? Dove lo mettiamo quello? Lo mettiamo lì I cattivi e il mio abbi ho messo nel sito Nelle foto Sì, una nell'angolo foto No, abbiamo anche la decorazione autunnale Ma poi mettiamo i topi Sì, mettiamo qui Sì, le zucche Aspetta Sì, e anche una zucca mettiamo sopra qua Ivan No, no, no Tocchini Dove lo mettiamo i ragni? Guardiamo i ragni E i ragni dove li metti vicino? Dove li metti tesoro? Ecco, così Uno che esce dalla zucca E uno intero qui E qui giù E un ragnetto E un ragnetto No, è un ragnetto sopra Spiano Anzi, il ragnetto è così Mettiamolo vicino Ecco, un ragnetto così Bene La lanterna dove la mettiamo? Sai che possiamo metterla accesa davanti alle zucche? Chi? Vai a prenderla la lanterna No, no Io la prendo e poi la accendevo Ciao, bello E io la accendo Bella 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 queste decorazioni Ah, bui, bui Abbia, bimbi Ti aspetto con il video di Halloween Ci vediamo con i prossimi video di Halloween Ciao, bambini apriamolo apriamolo vediamo il vestito che useremo ad Halloween tiralo fuori che vestito è? dai, dei scheletri che vestito è? il scheletro che c'è su c'è uno scheletro? lo vuoi provare? si ciao bambini ti aspetto ai prossimi video